Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video, sono Oxon e tu non devi farla? Il video che voi guardate su YouTube non è il video che voi guardate su YouTube, è molto di più. Lui è Davide! A Davide piace vedere la televisione. A Davide piace mangiare mentre vede la televisione. A Davide piace bere mentre vede la televisione. Ma la vitri Davide sarebbe troppo bella così. Infatti ha un grande problema che lo affligge. Guardando la televisione non fa altro che pensare al suo canale YouTube e ai video che potrebbe fare. E questo è quello che succede dentro la sua... Oh mio Dio... Potremmo ispirarci a questo programma per fare un video su YouTube. Che ne dici voglia? Oh... Possibile... Possibile che ogni cosa che vediamo in TV dobbiamo riportarla su YouTube. Sono stanco. Sono stanco. Video su video. Ogni settimana. È da anni che andiamo avanti. Non si cresce. Basta. Sono stanco. No... Non puoi dire così. Ci siamo sempre impegnati. Ci siamo sempre divertiti. Fidati. Questa volta... Verrà un bel video. Avanti. Alziamoci. E andiamo a scrivere questo video. Uh... Lui è... Davide. sì, quello di prima a Davide piace scrivere i video a Davide piace ideare e realizzare i video ma la scrittura di questo video è come tutte le altre e verrà abbandonata, forse persa o riutilizzata in futuro Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video sono Oxo, mi trovi di Palla oggi vi cerco sul nostro video ragazzi ho avuto una bellissima idea grazie a tutti 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 grazie a tutti